Buongiorno, benvenuti a tutti, benvenuto al nostro ospite. Per l'incontro di quest'oggi, organizzato nell'ambito del progetto Galeotto fu il libro, siamo lieti di accogliere Paolo Bricco, saggista e giornalista, che dialogherà con noi sulla sua ultima opera, A.O. Adriano Livetti, un italiano del Novecento, pubblicato dalla casa editrice Rizzoli nel 2022. Nato a Ivrea nel 1973, Paolo Bricco è figlio di impiegati dell'Olivetti. Dopo essersi diplomato presso il liceo classico Carlo Botta di Ivrea, ha conseguito una laurea in scienze politiche, indirizzo storia economica, presso l'Università degli Studi di Torino, e successivamente un dottorato in economia, indirizzo economia dell'impresa, presso l'Università degli Studi di Firenze. È un giornalista che ha lavorato per molte testate italiane, fra cui La Stampa, Diario della Settimana, Famiglia Cristiana, Il Corriere della Sera, Il Giornuovo, Il Foglio. Attualmente ricopre la posizione inviata speciale per il Sole 24 Ore. È autore di inchieste, reportage e analisi sull'industria dell'auto, sull'economia italiana e internazionale, sulle politiche industriali e sul fenomeno della globalizzazione. Ha pubblicato A.O., Adriano Olivetti, Unitaliano del 900, Rizzoli 2022, Cassa Depositi e Prestiti, Il Mulino 2020, Marchionello Straniero, Rizzoli 2018, L'Olivetti e l'Ingeniere 1978-1986, Il Mulino 2014, L'Olivetti prima e dopo Adriano, Ancora del Mediterraneo 2015. Dal 2004 al 2013 è stato membro del Comitato Direttivo dell'Archivio Storico Olivetti. Attualmente è Fellow del Cami, il Center on Automotive and Mobility Innovation, il centro di ricerca sull'automotive industry dell'Università di Ca' Foscari di Venezia. Per presentare la trama di questo saggio ho deciso di analizzare le analogie e le differenze tra la Olivetti e le fabbriche italiane di oggi. È nata così una lettera personale indirizzata a mio padre, un metalmeccanico che non ho potuto fare a meno di associare agli operai olivettiani. Papà, a scuola stiamo leggendo un libro sulla figura di Adriano Olivetti. Immagino che tu sappia chi sia. È stato il dirigente della prima fabbrica di macchine da scrivere italiana fondata da suo padre, Camillo Olivetti, nel 1908. Ma Adriano non è stato solo un industriale. È stato anche un imprenditore, un architetto, un urbanista, un editore, uno scrittore, un politico, un sociologo, un innovatore. C'è chi lo definisce addirittura un visionario per aver ideato l'industria del futuro e aver realizzato un modello di utopia sociale. I dipendenti della Olivetti, infatti, vivevano in condizioni migliori rispetto a quelli delle altre grandi fabbriche italiane. Ricevevano salari più alti. Durante le pause di lavoro potevano servirsi delle biblioteche, ascoltare concerti o seguire dibattiti. Avevano accesso a un servizio sanitario interno, ricevevano prestiti e agevolazioni. Intorno alle fabbriche di Ivrea, a partire dal 1939, vennero costruiti i primi nuclei abitativi per operai e impiegati ad opera dei due architetti razionalisti, Luigi Figini e Gino Pollini. Lo scopo di Adriano era integrare perfettamente la fabbrica con le abitazioni civili e il paesaggio rurale circostante. L'hai mai vista la cosiddetta fabbrica di vetro? Un ampliamento dell'edificio originario, fatto interamente di vetrate, che risolvevano non solo i problemi di illumino tecnica, ma rispondevano anche all'idea di umanesimo industriale di cui la Olivetti è promotrice. L'ho visto più volte il capannone in cui lavori, principalmente costruito in cemento armato e poco illuminato dalla luce naturale. Sicuramente ciò che accade dentro non può essere visto da fuori e viceversa. Inoltre gli uffici sono separati dal resto dell'officina, ma la Olivetti non era così. Essi erano dislocati negli stabilimenti e gli impiegati erano al pari degli operai. Tutto sommato la Olivetti si viveva bene. Si stava bene con Adriano, ma si stava bene già negli anni del Bienio Rosso, quando la ditta era ancora guidata da Camillo. Tra il 1919 e il 1920, mentre i lavoratori di tutta Italia scioperavano contro il taglio dei salari e le serrate, quelli di Ivrea godevano già del benessere che molti ancora non conoscevano. Oggi quel mondo sembra davvero un'utopia. Certamente la società si è evoluta e ha fatto dei progressi, ma più procedo con la lettura e più mi rendo conto che per molti aspetti la Olivetti era addirittura più avanti del mondo di oggi. Cosa ne pensi papà? Secondo me lavorare presso la Olivetti ti sarebbe piaciuto. Inoltre, immergendomi nel racconto della vita di Adriano e Camillo, mi sono sorpresa più volte a pensarti. Nonostante tu venga dal sud e possieda solo la licenza media, oggi ti trovi ai vertici dell'azienda presso cui lavori. Forse rappresenti un'eccezione, ma sei la dimostrazione che con la determinazione e la voglia di imparare si possono raggiungere traguardi che tanti possono solo sognare. Sei proprio un tipico operaio olivettiano. Devi sapere infatti che gli operai della Olivetti appartenevano per lo più alle classi sociali più basse ed erano pertanto poco istruiti. Ma grazie alle esperienze e al sapere acquisito sul campo potevano emanciparsi dalla loro condizione e scalare i gradini della gerarchia aziendale. Ne è un esempio Domenico Burzio, fermatosi alla seconda elementare e diventato direttore tecnico della Olivetti nel 1908. A lui, a partire dal 1932, anno della sua morte, fu dedicato il fondo Domenico Burzio con lo scopo di rafforzare e rendere più sistematica l'assistenza economica e sociale a favore dei dipendenti e dei loro familiari. Oggi le condizioni di vita sono migliorate. Ma stiamo vivendo una grande crisi economica e dimmi, quante sono le aziende che forniscono sostegni economici ai propri dipendenti? E quante quelle che consentono alle donne di essere mamme lavoratrici contemporaneamente? Quante notizie si sentono su madri costrette a rinunciare al lavoro per prendersi cura della famiglia? Nelle fabbriche Olivetti c'erano gli asili e le scuole per i figli dei dipendenti. Le operaie non perdevano il proprio posto di lavoro per maternità e in caso di malattia il salario restava completo. In sintesi, i lavoratori erano prima di tutto individui con una propria storia e una vita al di fuori della fabbrica. Non sto sognando, questa era la vita alla Olivetti nonostante la realtà stesse diventando sempre più complessa. Anche oggi si sente dire continuamente che il mondo del lavoro è difficile così come tortuosa è la vita. Per questo, vederti arrivare a casa la sera sereno e tranquillo dopo una giornata di lavoro è una delle cose che conta di più. Significa che in fin dei conti nonostante talvolta qualcosa possa andare storto o possono insorgere litigi con i tuoi colleghi il tuo lavoro ti piace e in officina stai bene. E mi sembra che il benessere di cui godi non sia solamente fisico ma anche mentale e spirituale. infatti hai reso la tua passione il tuo lavoro e consapevole dei tuoi limiti culturali ti sei sempre rimboccato le maniche per farti valere come persona e come metalmeccanico in una realtà in cui chi non possiede almeno il diploma viene considerato uno scarto della società. Forse la tua storia è solo una fra tante forse non potrai migliorare l'industria italiana ma d'altronde anche Adriano Olivetti era solo un italiano del Novecento. Adesso vorremmo rivolgere le nostre domande. Prima posso dire una cosa? Sì. Tu mi hai ucciso ecco. Veramente hai fatto una roba meravigliosa. Grazie. Cioè potrei alzarmene e andarmene ecco eh. Hai già fatto cioè com'è che dicono you make my day. No veramente hai fatto una roba bellissima guarda. Veramente bravissima. Bravissima. Veramente io potrei andarmene ecco cioè ho risolto la giornata ecco. Ok allora cominciamo con le domande. Vai. Adriano Olivetti non era un bambino speciale o particolarmente dotato. È stato un ragazzo come molti altri della sua epoca e ha seguito le orme del padre ingegnere che ha voluto per lui una formazione tecnica e scientifica. Nonostante questo però Adriano Olivetti è diventato un mito dell'industria e della cultura italiana del ventesimo secolo. Perché dunque ha scelto di utilizzare proprio ha scelto di utilizzare nel titolo della sua opera l'articolo indeterminativo UN per caratterizzare proprio Adriano Olivetti. È stato veramente solo un italiano nella storia del Novecento? Sì. Allora romperei la risposta in due. Nel senso che è stato un italiano del Novecento perché? Perché io ho scritto questo libro per rendere Adriano Olivetti un uomo nel flusso della storia. Adriano Olivetti è sempre stato considerato una sorta di santino collocato in un luogo lontano dalla realtà che faceva delle cose straordinarie e che in quanto tale in qualche maniera veniva quasi un po' normalizzato. Perché se tu prendi una persona umana e la trasformi in un santo laico entra in una dimensione che quasi non ti riguarda ecco. E questo è stato fatto tantissimo su Adriano Olivetti tanto che c'è poca ricerca scientifica su Adriano Olivetti ci sono pochi libri di archivio su Adriano Olivetti c'era un'immagine estremamente stereotipata. Invece il mio punto di vista è stato quello di dire voglio costruire una biografia che sia critica empatica perché io penso che Adriano Olivetti sia stato un personaggio pazzesco ma non a geografica cioè io lo voglio togliere dal piedistallo e lo voglio collocare dentro al flusso della storia e questo per questa ragione per me è stato importante e fondamentale pensarlo come un italiano del novecento quindi non un essere sublime un essere fuori dalla storia no un essere dentro alla storia quindi partendo da questo punto di vista ho scelto di raccontare anche le cose meno semplici da raccontare le cose più scabrose senza volerlo mitizzare ad esempio chi di voi è già all'ultimo anno magari sentirà a un certo punto nel corso dell'anno parlare di uno storico contemporaneista molto importante che si chiama Renzo De Felice che ha cambiato il punto di vista della storia del fascismo in Italia una delle tesi importanti di questa persona che si chiama Renzo De Felice è la tesi del consenso delle masse al regime e del consenso delle classi dirigenti al regime ecco Adriano Olivetti negli anni 30 pur provenendo da una famiglia di origini ebraiche pur essendo stato in gioventù socialista pur essendo stato molto condizionato dalla sua origine israelitica è integrato negli anni 30 nella società del fascismo e la mia scelta di raccontare in che modo è stato integrato è una scelta che si riconduce esattamente dentro al paradigma del un italiano del novecento poi un italiano del novecento anche perché è una persona dell'Italia del novecento e quindi ritornando al discorso del rapporto col papà è esattamente quello che siamo stati tutti noi no? cioè prodotti dei nostri genitori in grande anche contrasto e contraddizione e anche frutto magari delle scelte dei nostri genitori voi dovete pensare che Adriano Olivetti viene ricordato perché costruirà questa fabbrica in particolare tra il 1945 e il 1960 usando un mix molto forte di tecnologie organizzazione innovazione e anche cultura umanistica Adriano Olivetti sarà sempre dispiaciuto per il fatto che il papà gli impedì di fare il liceo classico perché? perché il papà era un ingegnere anche lui come sarebbe stato suo figlio che però credeva era dentro alla corrente del cosiddetto positivismo e credeva che fosse molto più importante la tecnica e la tecnologia in quel momento negli anni dieci nei primi del novecento rispetto alla cultura umanistica e quindi in qualche maniera non è soltanto un italiano del novecento ma è anche un bambino del novecento esattamente come siamo tutti noi quindi era anche frutto del suo rapporto complesso e complicato con la con la sua società quando è diventato adulto e anche con la sua famiglia quando era un semplice bambino dalla lettura del saggio abbiamo riscontrato la sua cura e attenzione nei confronti delle informazioni che intende fornire ai lettori ne è esempio la ricca bibliografia che accompagna l'opera il risultato non è una tipica biografia ma il racconto di una figura strettamente connessa al contesto storico culturale a tal proposito cosa l'ha spinta ad avvicinarsi ad Adriano Olivetti che tipo di relazioni si è instaurato tra lei e questo personaggio durante la stesura dei tre saggi che gli ha dedicato sì allora io ho scritto questo libro per due ordini di ragione il primo è una ragione personale la seconda è una ragione culturale inizierei dalla seconda che è più facile da spiegare io mi sono sempre occupato di storia economica e scrivendo di Adriano Olivetti scrivendo della Olivetti in particolare ho scritto ho fatto la tesi di laurea sulla funzione di corporate image e identity della Olivetti dal 65 all'85 quindi negli anni successivi alla morte di Adriano poi ho scritto un libro per il mulino sulla Olivetti degli anni 70 e 80 poi ho scritto prima ho scritto un altro libro per una piccola casidrice di Napoli chiama l'ancora del Mediterraneo sull'Olivetti degli anni 60 Adriano Olivetti muore nel febbraio del 1960 ecco la ragione culturale per cui ho avuto la necessità di scrivere questa roba e che era un continuo cioè quando io mi occupavo di qualunque argomento tecnologico industriale culturale civile sugli anni 70 e 80 della Olivetti il fenomeno della Olivetti c'era un continuo rimando ad Adriano cioè era come se fosse una specie di fantasma che o di matrice iniziale che aveva determinato tutto questo vi racconto che ad esempio quando feci da piccolo la tesi in storia economica scienze politiche era curioso perché io facevo una tesi su una roba che riguardava dopo la morte di Adriano naturalmente il mio professore mi disse oltre a cercare i documenti andare negli archivi devi andare a parlare con le persone che sono ancora vive e io andavo a parlare con le persone che erano ancora vive e quando queste persone ancora vive avevano iniziato a lavorare negli anni di Adriano Olivetti a qualunque domanda io ponessi loro rispondevano in maniera ossessiva sempre la stessa cosa nel senso che io potevo veramente andare da loro sedermi e chiedere ma lei preferisce la pizza al prosciutto o la pizza a quattro formaggi e la risposta era ho incontrato Adriano Olivetti il primo aprile del 1951 e questo dava proprio l'idea di una eccezionalità cioè di un imprinting di un timbro incredibile che a persone normali aveva dato una esperienza eccezionale ecco e quindi c'era questa continuità quindi tante cose che negli anni io ho scritto alla fine erano avevano sempre questo fantasma che incombente cioè sembrava sempre di dover stare dentro a un giallo dove c'erano delle cose insolute che risalivano a tanti anni prima e a questa figura da qui a un certo punto ho detto allora a questo punto provo anche se è molto difficile perché poi scrivere dei libri è complicatissimo perché è una roba che espone l'individuo in una maniera enorme agli altri è un atto di quasi di nudità completa proprio ecco e quindi poi gli altri diranno del tuo libro ciò che loro ritengono di dovere dire di poter dire o di desiderare di dire quindi è molto complicato dal punto di vista emotivo però a un certo punto dal punto di vista culturale ho avuto la necessità di farlo la ragione culturale si fonde con la ragione personale perché ognuno di noi è figlio della sua storia personale della sua comunità ecco voi siete in una città meravigliosa con 800 ipotesi di invenzioni letterarie culturali come Ferrara nel senso che credo che sia un privilegio ecco essere nato nati per caso a Ferrara come è stato per me un privilegio essere nato a Ivrea perché io sono nato nel 1973 ricordiamo che appunto Adriano Olivetti muore nel 1960 la Olivetti proseguirà in buone condizioni industriali fino a tutti gli anni 80 quindi io sono nato e cresciuto dentro a quel tipo di benessere in una piccola città che era veramente paragonabile Ferrara determinata da quei criteri gerarchici sociali di valori che erano stati quelli che racconto nel libro che erano stati proprio creati da Adriano Olivetti e allora questa cosa mi ha permesso di vivere una esperienza che non so come possa essere stata la vostra esperienza qui a Ferrara però a Ivrea per me negli anni 70 essere bambino era voleva dire sperimentare una vera democrazia tra i bambini nel senso che la fabbrica quello che esprimeva i servizi sociali la ricchezza diffusa c'era anche un senso di eguaglianza assoluta per cui essere figlio di un operaio essere figlio di un dirigente essere figlio di un notaio essere figlio di un medico assolutamente non cambiava la percezione di sé c'era una vera democrazia tra i bambini che era anche una democrazia delle cose fisiche vi faccio un esempio io quando io ho capito che esistevano le classi sociali cioè che c'erano i figli dei ricchi e i figli dei poveri c'erano i figli di quelli che avevano fatto la quinta elementare i figli di quelli che avevano fatto il dottorato di ricerca all'università quando sono andato a Torino a fare l'università Torino era una città completamente diversa rispetto a Iurea perché era una città durissima era una città dove c'era la Fiat dove c'erano gli agnelli dove c'era il partito comunista dove c'era la CGL la camera del lavoro ed era una città molto gerarchica dove essere figlio di un dirigente della Fiat era molto diverso che a essere figlio di un operaio di Mirafiori e io ricordo che un giorno andai a studiare con dei compagni a casa in un palazzo Umbertino bellissimo una nostra compagna e lì ci ricevettero proprio immaginatevi i camerieri in livrea cioè proprio con l'abito cioè una roba veramente da Torino degli anni 80 e 90 ancora e ci mettemmo a studiare questa casa meravigliosa eravamo entro quattro a un certo punto io guardai la la figlia di questo grande dirigente della Fiat che era una bellissima ragazza e mi accorsi che questa ragazza aveva i denti storti e mi accorsi che aveva i denti storti e in quel momento mi resi conto che invece a Ivrea noi tutti figli degli operai degli impiegati chiunque avevamo tutti i denti perfetti ma perché perché dentro a quel micromondo creato da Adriano Rivetti non c'era soltanto il fatto che gli stipendi erano più alti non c'era soltanto il fatto che ci potessero essere dei servizi sociali mostruosi ma c'era anche il fatto che tutti quanti avevano delle cure sanitarie mediche straordinariamente efficaci e quindi i figli della grande borghesia industriale torinese i figli di quelli che lavoravano con gli agnelli di quelli che lavoravano con Cesare Romiti avevano i denti storti e questo già mi aprerebbe anche una riflessione sul problema di quel tipo di classe dirigente nel rapporto con i loro figli ma quello non importa il problema era che invece noi a Ivrea tutti quanti avevamo i denti perfetti gratis perché era un pezzo del nostro mondo e della nostra quotidianità leggiamo dal suo testo Ivrea la campagna gli animali la famiglia un clima come di sospensione in attesa che ogni giorno in questa vicenda irrompa la storia da quanto appena letto si deduce che ad Ivrea non accadono le cose lì è tutto stemperato e attutito la piccola città piemontese forse proprio grazie alle montagne che la circondano resta a lungo protetta dal sopraggiungere della storia del nuovo secolo ma poi arriva un uomo che vuole rendere il suo sogno realtà dal momento in cui Camillo Olivetti coraggioso paladino della storia darà vita alla sua prima attività imprenditoriale niente sarà più lo stesso ad Ivrea la storia cambierà le sorti della città e di ogni suo abitante la rivoluzione portata dagli Olivetti quindi non ha inizio da un grande centro dinamico in cui nuove idee e rivoluzioni sono all'ordine del giorno inizia invece tutto da un luogo lontano dai cambiamenti dalle innovazioni e soprattutto dalla storia quanto dunque questo aspetto ha influenzato le vicende degli Olivetti se Camillo e Adriano avessero operato in un contesto in cui la storia si era già insediata questo saggio avrebbe raccontato gli stessi avvenimenti oppure ciò che ha reso l'impresa degli Olivetti memorabile è stato proprio il loro coraggio di portare la storia lì dove non era ancora arrivata è esattamente l'ultima cosa nel senso che la cosa interessante della storia dell'Olivetti che in realtà riguarda tantissimo il modello di sviluppo e il modello culturale italiano cioè di come l'Italia è diventata l'Italia nell'ottocento e nel novecento è il fatto che i luoghi contano ma non sono fondamentali cioè possono capitare delle cose grazie alla iniziativa di singoli individui straordinari anche lontani dai grandi flussi della storia facendo irrompere la storia in quei luoghi tutto nasce dal fatto che Camillo Olivetti è un ingegnere la sua famiglia ebrea è una famiglia ebrea straordinaria dove le donne sono tutte poliglotte dove la mamma di Camillo parla più di una lingua dove il figlio nell'ottocento viene obbligato a imparare l'inglese e tutto nasce dal fatto che Camillo fa studia ingegneria e diventa assistente di Galileo Ferraris Galileo Ferraris è un grande scienziato Galileo Ferraris va negli Stati Uniti a fine ottocento fa un viaggio non sa l'inglese e porta con sé Camillo l'assistente che invece sa l'inglese fanno e in quel viaggio succede quello che capita nei momenti di svolta delle cose cioè c'è l'incontro di Camillo Olivetti con la frontiera tecnologica del tempo Camillo Olivetti conosce la frontiera tecnologica dell'energia conosce la frontiera tecnologica della misurazione conosce la frontiera tecnologica delle macchine per scrivere e delle macchine da calcolo quando torna in Italia prima va a Milano e poi abbandona Milano e sceglie di tornare a Ivrea che è la sua città che era veramente un posto sfigatissimo lontanissimo da tutte le assi di comunicazione era un posto assolutamente paragonabile come distanza dai centri dello sviluppo che in quel momento erano quello che sarebbe stato chiamato il triangolo industriale Torino Milano Genova non c'era neanche una strada che portava da non c'era neanche ancora la ferrovia che portava da Torino a Ivrea e non ci sarà mai un collegamento diretto tra Milano e Ivrea anche adesso non c'è e porta la frontiera tecnologica cioè porta le cose più avanzate che lui ha appreso negli Stati Uniti e le porta in quel luogo dimenticato da Dio apre una fabbrica e instilla nel figlio l'idea che la frontiera tecnologica sia la cosa da perseguire e sia la cosa che va portata in quei non luoghi per poterli fare diventare luoghi della storia quindi Camillo porta le macchine per scrivere le macchine da calcolo Adriano porterà sempre la frontiera tecnologica della meccanica nei primi anni tra il 45 e il 60 e porterà la tecnologia dell'innovazione più avanzata dell'elettronica quando l'elettronica non esisteva ancora sempre a Ivrea tra Ivrea e le altre fabbriche che però avevano loro epicentro a Ivrea solo così è possibile per un non luogo della storia come Ivrea riuscire a entrare nel flusso della storia esattamente come capita ed è capitato ad altre decine di luoghi dello sviluppo culturale italiano dello sviluppo industriale italiano come ad esempio non lo so pensate quello che è diventato agordo quello della luxottica grazie a quello che ha fatto Leonardo del Vecchio pensate a quello che è stato fatto nelle marche da Diego della Valle pensate a quello che ad esempio qua vicino hanno fatto quelli del wellness a Rimini con le macchine per andare in palestra queste cose ecco cioè quelli sono non luoghi completamente fuori dal mondo dove a un certo punto ci sono degli imprenditori che o hanno delle occasioni di business oppure hanno la capacità di portare la frontiera tecnologica in in quei posti e far sì che quei posti divengano centrali questo che cosa fa fa sì che a un certo punto per il fenomeno della meccanica e dell'elettronica Ivrea sia importante come è importante New York Ivrea sia importante come è importante San Francisco e questo accade davvero ed è un elemento fondamentale per capire che cos'è l'Italia del novecento e in fondo che cosa siamo anche oggi noi soprattutto in questi luoghi piccoli e densi di significati e di storia come possono essere Ivrea come possono essere Agordo come può essere Ferrara nel testo leggiamo l'emozione circostritta la fantasia trattenuta quindi si deduce che queste parole riferite ad Adriano in partenza per l'America appaiono quanto mai paradossali se confrontate con l'ossessione americana come la definisce lei degli anni cinquanta cosa determina questo cambiamento così radicale? Mi rispieghi bene la domanda? Aspetta che chiedo scusa che cosa determina questo cambiamento radicale dell'America degli anni cinquanta? Ok chiedo scusa no allora l'America è l'ossessione di tutti noi ed è l'ossessione anche degli olivetti nel senso che l'America è il luogo dove c'è una roba che si chiama fordismo cioè le fabbriche organizzate secondo i principi di Henry Ford e di Taylor quelle fabbriche sono fabbriche che schiavizzano gli esseri umani cioè le fabbriche di allora sono come la fabbrica che ha descritto prima nella sua lettera a papà la nostra amica però peggiorati di cento volte c'erano luoghi tremendi proprio ecco erano luoghi in cui gli esseri umani diventavano veramente come delle scimmie ammaestrate perché dovevano fare le cose ripetendo sempre gli stessi comportamenti le stesse le stesse cose per ore 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 giorni 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 allora cosa succede? succede che Adriano Olivetti e anche già il papà Camilo ma soprattutto Adriano Olivetti è ossessionato da quella fabbrica è ossessionato da quella America e la vuole cambiare cioè lui passerà tutta la vita a amare spaventosamente le sue fabbriche ma allo stesso tempo a essere terrorizzato che quelle fabbriche siano dei luoghi di malattia siano dei luoghi di dolore siano dei luoghi di abbruttimento e quindi avrà da questa ossessione su quello che sono le fabbriche del novecento americano avrà la necessità di creare un modello europeo italiano in cui le fabbriche sono dei luoghi comunque duri perché l'Olivetti era un'azienda comunque che aveva le fonderie aveva faceva tutto dentro quindi immaginatevi anche lavorare i metalli per fare poi le macchine per scrivere erano luoghi anche difficili come posti ma allo stesso tempo faceva quella roba però poi cosa faceva costruiva intorno a quella cosa un mondo di significato e di benessere che emancipava quella naturale e inestirpabile parte difficile della quotidianità degli operai e degli impiegati e come lo faceva lo faceva innanzitutto facendo girare i soldi la ricchezza che creava tutta dentro all'azienda per cui l'Olivetti è tra il 45 e il 60 una macchina da guerra per produrre ricchezza fanno dei prodotti di macchine da calcolo che vengono usati alla NASA vengono usati dai russi fanno macchine per scrivere bellissime che vengono vendute in milioni di pezzi e che finiscono anche dentro ai musei del mondo perché sono bellissime come oggetti e facendo tutta questa roba crea una ricchezza incredibile ma crea una ricchezza incredibile che a differenza del modello americano dove l'idea era di spremere come limoni le fabbriche e le persone che ci lavoravano dentro in maniera tale che gli azionisti cioè i proprietari delle fabbriche ne avessero il maggiore reddito finanziario possibile lui rifare girare i soldi dentro la fabbrica per cui ad esempio io nel mio libro ho preso tutte le statistiche degli anni 50 e ho fatto vedere come l'operaio della Olivetti guadagnasse il 40% in più rispetto all'operaio della delle aziende metalmeccaniche che erano tanti soldi in più e in più però proprio per riuscire a partire dal modello americano dell'organizzazione scientifica del lavoro ma creando un modello europeo e italiano in questo caso possiamo proprio dire olivettiano lui fa anche queste cose che dicevamo prima prima quella bellissima lettera la nostra la vostra compagna citava la questione delle mamme cioè io ho sempre trovato incredibile e poetico il fatto che due cose sostanzialmente che però erano dentro al tema del fatto di fare girare i soldi a favore di chi ci lavorava dentro cioè il fatto che nello statuto dell'asilo nido dell'Olivetti che viene fatto nel 1942 è scritto che i figli degli operai hanno la precedenza rispetto ai figli degli impiegati e di dirigenti questo voleva dire che si creava un asilo aziendale e che se c'era un numero limitato di posti avevano la precedenza i figli degli operai rispetto ai figli degli impiegati e i figli degli impiegati rispetto ai figli di dirigenti quella società lì già oggi la società nostra è crudele ma la società degli anni 40 era ancora più crudele e in quel momento c'era la guerra ho sempre trovato anche bellissimo il fatto che è assolutamente incredibile perché è veramente fuori dalla linea anche di oggi il fatto che in quella Olivetti c'era un'azienda che faceva una ricchezza pazzesca aveva quelle fabbriche le persone quando rimanevano incinte le ragazze le donne avevano diritto per legge a stare a casa un mese prima e un mese dopo rispetto al parto in quel caso all'Olivetti la Olivetti di Adriano pagava il 100% dello stipendio fino al nono mese di vita del bambino che oggi è una roba assolutamente improponibile già anche oggi cioè oggi dopo credo tre mesi uno debba rientrare o comunque stare a casa con riduzione di stipendio eccetera lì invece erano nove mesi 100% e aggiungo un pezzo perché oggi sembra una cosa che ma allora era una tragedia aggiungo un pezzo che era specificato per diritto ed era a prassi che qualunque ragazza o qualunque donna rimasta incinta aveva diritto a quel trattamento era chiarito e quindi anche le ragazze le donne che avevano figli fuori dal matrimonio che oggi sembrerà una stupidaggine ma tra il 45 e il 60 rimanere incinte fuori dal matrimonio e il bambino essere figlio di NN ancora era 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 una era una tragedia alla Olivetti questa roba non era considerata un problema mentre era un problema enorme fuori da quel mondo e chiunque qualunque ragazza anche non sposata anche qualunque ragazza madre aveva diritto al 100% dello stipendio fino al compimento del nono mese di vita di suo bambino e della sua bambina per questo Adriano parte dal modello americano ma fa una roba completamente diversa il cui principio è proprio quello è io prendo i soldi che guadagno e non li porto al proprietario dell'azienda cioè a me medesimo ma li faccio rientrare sotto a beneficio di tutti quanti sia con benefici finanziari le stipendi sia con luoghi umani meno disumani possibili luoghi di lavoro sia con servizi che sono assolutamente fuori dal mondo anche oggi e che avevano costi onerosi perché immaginatevi un'azienda che paga una ragazza una donna il 100% dello stipendio fino al nono mese della sua maternità come ci ha appena raccontato e come del resto scrive anche nel suo libro Olivetti ha una visione rivoluzionaria che appunto pone al centro la persona indipendentemente dal sesso biologico e quindi appunto apporta anche una serie di benefici di iniziative che permettano anche alle donne di lavorare essendo anche madri quindi ecco ci chiedevamo secondo lei perché ad oggi questa visione risulta ancora una sorta di utopia e soprattutto che consiglia darebbe secondo lei Adriano Olivetti agli imprenditori d'oggi che pongono il guadagno al primo posto rispetto alla persona e alle qualità dei propri lavoratori e lavoratrici ma io penso che sul tema del femminile va però storicizzato bene nel senso che Adriano Olivetti costruisce questo modello però è anche un uomo del suo tempo ed essendo un uomo del suo tempo si comporta anche come un uomo del suo tempo perché se no ricadiamo nel problema della favola e non della storicizzazione nel senso che ad esempio alla Olivetti stando così le cose ed era già una cosa molto avanzata però le uniche dirigenti donne rimangono nei servizi sociali nell'asilo nido nelle funzioni accuditive quindi nella Olivetti di Adriano Olivetti non c'è la capa della finanza non c'è la capa dello stabilimento perché se no rischiamo di creare un gigantesco una gigantesca panna montata dolce intorno a sta roba e non è così quindi in realtà c'è una strutturazione avanzatissima e poi c'è un beneficio generale poi però ci sono delle scelte strategiche che sono anche figlie del loro tempo per cui c'è la direttrice della dell'asilo nido che è la Nissim che è una grande una grande psicanalista allieva allieva diretta di di Jung che fa la direttrice della dell'asilo nido ci sarà poi ad esempio all'ufficio legale che in qualche maniera è più un soft skill dentro le imprese anche una dirigente d'onda cioè però questo questo è la cosa per cui questo questo elemento va sottolineato perché se no non si capisce non si coglie la complessità della cosa dal punto di vista invece del 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 rapporto con la sua contemporaneità cioè gli imprenditori di oggi io credo che sia molto difficile per rispondere a questa domanda anche pensando a quanto era difficile per gli imprenditori del tempo di Adriano Adriano stesso nel senso che assolutamente Adriano Olivetti è stato per decenni considerato un anomalo e aveva molta ostilità di sistema aveva ostilità di sistema da parte dei sindacati che erano in grande difficoltà con una persona che costruiva quel modello ha avuto ostilità di sistema da parte del partito comunista perché lui era anticomunista nel senso che lui proponeva una sorta di terza via tra la fabbrica la comunità e lui non credeva sostanzialmente nella democrazia classica come non credeva nel socialismo reale quindi al partito comunista non dava bene ma era anche un problema per gli imprenditori di allora perché perché comunque era un imprenditore che costruiva un modello completamente diverso dalla realtà ed era anche un problema per i suoi familiari perché io nel libro lo racconto era molto osteggiato dai suoi familiari perché dentro a questa roba che abbiamo descritto che era una roba che se ci pensate era avveniristica però anche delirante cioè nel senso era completamente straniante lui volle fare due cose tutta la vita la prima era creare un consiglio di gestione con dentro tutti gli operai e gli impiegati e che fu fondamentale su tutta la parte di gestione dell'azienda dal punto di vista dei servizi e del coinvolgimento degli operai e degli impiegati e dall'altra parte lui per tutta la vita cercò di fare una fondazione con cui la famiglia Olivetti si sarebbe spossessata dell'azienda stessa perché il suo disegno era lui diceva noi come imprenditori siamo troppo poco abbiamo troppi interessi anche confliggenti tra noi come persone come famiglia e l'azienda noi dobbiamo creare una fondazione terza a cui noi conferiamo le azioni ma proprie titolari di quella fondazione devono diventare anche i sindacati le università diciamo quella che oggi viene definita società civile ecco e questa roba qui i parenti non l'hanno mai voluto fare anzi erano arrabbiatissimi perché temevano che in qualche maniera questa roba avrebbe fatto perdere loro ricchezza loro dicevano ma come abbiamo un'azienda che va benissimo guadagniamo un sacco di soldi già diamo tutti questi servizi che magari sono anche eccessivi nella mentalità di allora ma dobbiamo anche perdere il controllo dell'azienda quindi immaginatevi come Adriano Olivetti se era visto così dai suoi familiari doveva essere visto dagli altri imprenditori era visto come un UFO secondo lei il consenso al fascismo di Adriano Olivetti è stato limitato alla sola condivisione dei principi del corporativismo come lascerebbe intendere la rimozione e la collaborazione con il regime a partire dal 45 o al contrario si è trattato di un'adesione più profonda a questa ideologia allora io credo che Adriano Olivetti non sia stato fascista io credo che Adriano Olivetti come molti italiani del tempio abbia sia stato integrato nel fascismo che è una cosa diversa cioè nel senso che Adriano Olivetti è un imprenditore che opera negli anni 30 la sua è una adesione di tipo necessaria perché tu non puoi avere un'impresa dentro un regime totalitario ed essere contro quel regime totalitario è anche un'adesione che ha degli elementi culturali perché voi dovete considerare che Adriano Olivetti è ossessionato dal problema della fabbrica per lui la fabbrica è una chiave di accesso alla modernità e il corporativismo fascista e l'organicismo fascista lavora molto sul tema della modernità industriale e Adriano Olivetti quindi si trova coinvolto in quel tipo di dibattito poi Adriano Olivetti è anche un imprenditore che deve fare gli interessi della sua azienda tanto che ricordiamo che la Olivetti di Camillo del Papà era una piccola azienda con poche centinaia di dipendenti anzi anche meno di cento e Adriano che la fa diventare una vera propria impresa negli anni 30 e quindi lui ha rapporti stretti con il regime come avrà rapporti stretti con la pubblica amministrazione nel secondo dopoguerra perché perché Adriano Olivetti crede nella fabbrica crede nell'impresa ma come tantissimi imprenditori italiani anche oggi cerca di ridurre il rischio di mercato il più possibile e quindi ad esempio ha rapporti molto stretti con la con la pubblica amministrazione degli anni 30 per far sì che vengano messi dei dazzi doganali ai prodotti importati all'estero della concorrenza per far sì che non vengano creati nuovi stabilimenti in Italia e questo comportamento in realtà è un comportamento che non è di tipo fascista ma è di tipo imprenditoriale e verrà ad esempio ripetuto per fare vedere le continuità che ci sono tra gli anni 30 e il secondo dopoguerra verrà ripetuto tantissimo da Adriano nel secondo dopoguerra quando ad esempio riuscirà a evitare che a Napoli la Remington che era una grande azienda americana che faceva le stesse cose della Olivetti quindi macchine per scrivere macchine da calcolo aprisse uno stabilimento lui riesce a impedire tramite la politica quello e poi aprirà Pozzuoli lo stabilimento della Olivetti ma in primo luogo impedisce usando il protezionismo dello Stato la maggiore concorrenza che avrebbe potuto svantaggiarlo ma questo è una continuità c'è molta più continuità tra gli anni 30 e gli anni 50 di quanto non si possa pensare sia nella vita degli imprenditori di un imprenditore come Adriano ma anche nella storia della società italiana ecco chi di voi all'ultimo anno a un certo punto probabilmente troverà si dovrà a lavorare ad esempio sul tema della svolta di Salerno di Togliatti quando il partito comunista e Palmiro Togliatti sceglieranno di dare continuità a tutta l'alte pubblica amministrazione italiana c'è questo tema che è un tema classico importante che chi di voi all'ultimo anno probabilmente dovrà affrontare ecco eh? eh sì però la storia è questa anche in relazione a ciò che Adriano Olivetti ha fatto nel periodo della guerra è possibile paragonare il suo personaggio ad Oscar Schindler? ah? Oscar Schindler eh no direi di no nel senso che eh Adriano Olivetti eh allora eh la risposta è negativa perché eh Adriano Olivetti eh durante il periodo successivo alle leggi razziali eh fa eh fa il contrario cioè sceglie eh è preoccupatissimo che l'azienda eh possa essere chiusa dal regime perché è considerata un'azienda di ebrei e eh io ricostruisco tutto il meccanismo anche di rapporti con il partito nazionale fascista con l'alta pubblica amministrazione eccetera in cui Adriano Olivetti fa di tutto per dimostrare che l'Olivetti è veniva tecnicamente veniva detto arianizzata cioè non è un'azienda di ebrei eh lui stesso eh tecnicamente lui è un gentile perché eh saprete che la religione ebraica l'appartenenza alla comunità ebraica è matrilineare si trasferisce tramite la mamma e lui invece sua mamma era valdese e quindi in virtù del fatto che lui era tecnicamente gentile lui eh usò questo tantissimo per mostrare di non essere ebreo e fece esattamente quello che doveva fare per preservare la sua azienda allontanando eh tutti i dirigenti eh ebrei come richiesto dalle leggi razziali ecco quindi in realtà eh purtroppo la risposta è negativa ecco mi piacerebbe dirti di sì ma non è così buongiorno io volevo chiederle eh che cosa ha realmente ostacolato gli investimenti nel settore eh informatico dell'Aurivetti ecco questa è una delle grandi domande nel senso che cioè le due grandi domande sono allora ma se Adriano Olivetti ha fatto questa roba che è bellissima stupè perché poi questa roba non è andata così non è andata bene cioè perché non c'è più e la la risposta ha due facce la moneta della risposta e una è questa allora il tema della elettronica eh l'azienda era un'azienda meccanica quindi faceva macchine per scrivere macchine da calcolo meccaniche ed elettromeccanica a un certo punto c'è la grande rivoluzione dell'elettronica inizia a esserci nei primi anni 50 eh l'Olivetti è una delle aziende che inizia a lavorare sui grandi calcolatori grandi calcolatori che erano eh venivano chiamati big frame che erano grandi come questa stanza per avere magari delle capacità un centesimo rispetto a un nostro telefonino ecco allora quella roba lì viene fatta da Adriano Olivetti su suggerimento del fratello Dino e del figlio Roberto che sono i due grandi animatori della elettronica ma viene fatta purtroppo da solo in solitudine nel senso che eh il grande i due grandi competitor in quel momento su questa roba dell'elettronica negli anni 50 sono l'IBM e la Olivetti l'Olivetti dopo poco tempo che ha iniziato a lavorare con eh l'università pubblica con lo Stato eh si trova da sola cioè lo Stato italiano lascia cadere l'opzione elettronica decide che non gli interessa nei primi anni 50 e l'Olivetti decide di andare avanti da sola con gli investimenti come impresa privata ed è l'Olivetti quindi è una azienda importante ma piccola rispetto al mondo e negli Stati Uniti fanno fa la stessa cosa la IBM la IBM ha eh nei suoi laboratori in quel momento a lavorare otto premi Nobel ha sull'elettronica le commesse dell'esercito americano ha le commesse della pubblica amministrazione americana c'è una grande concentrazione di risorse su quella roba lì da parte dello Stato americano ecco noi spesso siamo eh portati a pensare che eh esiste il mercato il mercato esiste la competizione però esistono anche le politiche industriali e il ruolo della mano pubblica in quel momento in Italia la mano pubblica abbandona la Olivetti e la Olivetti prosegue con i suoi pochi o tanti mezzi ma con i suoi mezzi negli Stati Uniti l'IBM invece ha dietro l'esercito il governo le grandi università e a quel punto diventa una competizione impari per cui a un certo punto l'elettronica diventerà un'elettronica americana e tutti i frutti degli anni 60 e 70 verranno raccolti soprattutto dagli Stati Uniti e in maniera molto minore dall'Europa e dall'Italia perché anche perché da subito la mano pubblica italiana lo Stato italiano non crede alla elettronica come modello di sviluppo quindi secondo me questa è veramente una domanda cruciale ma è una domanda che ha il suo la sua risposta in primo luogo in questo e in secondo luogo anche su perché poi non vanno bene le cose all'olivetti no? e le cose non vanno bene all'olivetti sostanzialmente perché spero di essere nitido e chiaro perché perché c'è nell'economia sempre anche nella vita di tutti i giorni un potenziale conflitto di interessi tra l'interesse dell'impresa e l'interesse dei proprietari dell'impresa tra il 1954 e il 1958 l'olivetti diventa la grande olivetti quindi diventa un'azienda internazionalizzata pazzesca ha dei prodotti straordinari nella meccanica ha la diversificazione sull'elettronica i suoi prodotti a Ivre arrivano grandi designer grandi architetti i suoi prodotti quindi hanno dentro un quid di bellezza straordinaria che fanno sì che quegli stessi prodotti poi vengano portati richiesti dagli musei del mondo e vengono esposti come verrebbe esposta una tela di caravaggio ecco in quel momento l'olivetti diventa l'olivetti ma tra il 1954 e il 1958 si verifica proprio questo cioè il conflitto tra l'interesse degli azionisti e l'interesse dell'impresa perché in quel momento io ho ricostruito tutti i cosiddetti aumenti di capitale cioè i soldi che gli azionisti devono mettere dentro all'impresa per farla crescere ed è impressionante e anche imbarazzante perché tra 54 e 58 c'è una serie di aumenti di capitale perché l'azienda ha bisogno di soldi ma dopo 3 o 4 mesi che c'è un aumento di capitale la famiglia poi richiede i soldi indietro con dei dividendi straordinari quindi tra 54 e 58 l'olivetti che avrebbe bisogno di avere soldi dalla famiglia proprietaria in realtà dà alla famiglia più proprietaria sotto forma di dividendi più soldi di quanti ne riceva dalla famiglia proprietaria sotto forma di aumenti di capitale e questo è un problema enorme perché crea le condizioni di una grande fragilità patrimoniale finanziaria che farà sì che quando Adriano morirà nel 1960 l'azienda sia molto in difficoltà l'azienda è molto in difficoltà e questo è il primo elemento il secondo elemento è che non c'è stato sulle diversificazioni dell'azienda in generale in particolare sull'elettronica quell'appoggio dello Stato che invece ad esempio negli Stati Uniti c'è stato e quindi cosa succede? succede che poi negli anni 60 gli olivetti perdono l'azienda e l'Italia nel 64 65 perderà l'elettronica perché l'elettronica ha una olivetti che è in grave crisi finanziaria viene tolta e viene data agli americani di General Electric che non sono l'IBM un'altra società ma sempre americani sono ecco e quindi il punto è proprio quello ecco esatto leggo dal suo testo nel giudizio di Italo Calvino formulato nel 1965 fra gli autori olivettiani Volponi sarà il più originale ognuno dei numerosi letterati funzionari dell'Olivetti non mi riferisco tanto a Volponi che ha un modo suo di vedere le cose ma a tutti gli altri ha scritto un romanzo in cui l'Olivetti diventa un'azienda misteriosa in Memoriale romanzo di Volponi del 1962 il protagonista Albino Saluggia contadino trova lavoro come operaio in un'azienda metalmeccanica canavesana è malato ha una forte nevrosi alla fine entra in contrapposizione con l'ambiente della fabbrica e ne viene allontanato una invenzione letteraria in contrasto diretto con il desiderio di felicità creata o imposta che invece in parte nella realtà storica e soprattutto nella trasfigurazione mitizzante successiva segna l'impresa di Adriano Olivetti dunque presso l'Olivetti lavoravano molti letterati tra cui Paolo Volponi e Ottiero Ottieri nelle cui opere gli operai diventano i protagonisti e la fabbrica l'ambientazione principale per lo sviluppo delle vicende si definisce quindi nel secondo dopoguerra un nuovo genere narrativo che confrontandosi con la nuova realtà industriale denuncia l'alienazione la disumanizzazione e la reificazione dell'uomo in questo contesto come ha contribuito Adriano Olivetti nella definizione di una letteratura cosiddetta industriale e viceversa quanto figure come Volponi hanno influito nella cultura e nell'idea di una fabbrica a misura d'uomo è possibile parlare di un romanzo livettiano costruito intorno al modello di fabbrica comunità di Ivrea? Allora provo a rispondere sono questioni molto complesse molto interessanti e molto delicate allora la prima cosa che mi viene da dire è che esiste sicuramente una spinta olivettiana alla narrativa nel senso che genera innanzitutto dal fatto che i poeti e gli scrittori sono fra gli intellettuali umanisti che Adriano Olivetti cerca di attirare a sé cerca di attirare a sé per lavoro delle sue attività culturali e politiche ma anche per il suo lavoro di fabbrica e quindi si crea una condizione particolare per cui c'è un'impresa industriale che cerca scrittori come Paolo Volponi che tu hai citato che cerca critici letterari e traduttori dal tedesco come Franco Fortini che cerca dei poeti come Giovanni Giudici che cerca degli scrittori come Giorgio Soavi e potremmo andare avanti veramente a lungo perché sono tantissimi li cerca e li fa girare fra le attività culturali le attività sociali ma anche il mondo della fabbrica ecco Paolo Volponi è capo delle relazioni interne della fabbrica Geno Pampaloni che era uno scrittore toscano era l'assistente principale di Adriano Olivetti ma per tutte le questioni incluse quelle industriali e imprenditoriali quindi in realtà si crea un fenomeno curioso cioè un'impresa metallmeccanica ed elettronica diventa un coacervo di intellettuali umanisti i quali però non vengono pagati per scrivere le loro cose cioè non è un mecenatismo di come poteva essere il mecenatismo veramente della famiglia estense cioè non c'è nulla di rinascimentale o di tardo medievale queste persone vengono pagate per lavorare e vengono pagate per lavorare e portano il loro contributo di creatività di intelligenza di punti di vista diverse dentro alla pubblicità dentro allo stile dentro alle attività commerciali della Olivetti la tutta la pubblicità la comunicazione della Olivetti degli anni 50 è fatta da queste personalità letterarie che sono personalità di grande livello per cui anziché avere un qualunque impiegato che fa che si mette lì e prova a fare dei claim pubblicitari tu avevi dei grandi intellettuali che provavano a fare quella roba con un grado di inventive di culture di fantasia enormemente superiore rispetto allo standard rispetto alla media è evidente che un luogo di questo tipo crea le condizioni per cui le persone che ci stanno dentro poi ne traggano anche ispirazione per scrivere di quello che vivono e in questo caso appunto abbiamo detto di Paolo Volponi però ad esempio un altro è Ottiero Ottieri che scrive Donna Rumma all'assalto che è ambientato a Pozzuoli Donna Rumma è un operaio della Olivetti di Pozzuoli e è interessante perché io lo ricostruisco anche nel libro c'è tutto un meccanismo per cui si profila quello che avete giustamente chiamato voi un romanzo olivettiano ma c'è paura anche da parte dell'azienda di di fare raccontare queste cose ed è interessante perché poi alla fine Ottiero Ottieri riesce a pubblicare il suo libro grazie ad Adriano Olivetti che a un certo punto si impone rispetto alle paure che il figlio Roberto aveva rispetto al romanzo e dice no no questa roba dite pure che vada avanti e non mi ricordo se lo pubblica Mondadori o in audio Rizzoli non ricordo ma questo accade ecco e quindi sì la risposta è sì esiste un romanzo olivettiano nel senso proprio come costruzione di un immaginario che poi viene modificato in itinere negli anni e trasmesso da una schiera di intellettuali che sono appunto critici letterari filologi classici romanzieri poeti da questo punto di vista credo che sia la Olivetti unicum nel senso che non credo sia mai esistita un'azienda al mondo con una così alta concentrazione di intellettuali umanisti impegnati a creare ricchezza industriale questo che secondo me è il punto impegnati a creare ricchezza industriale leggendo dal suo libro allora leggendo dal suo libro essenziale in questa manifestazione della coscienza moderna è l'elaborazione del concetto di persona distinto e contrapposto al concetto di individuo conviene ricordare che la persona nasce da una vocazione dalla consapevolezza cioè del compito che ogni uomo ha nella società terrena e che come tale essa si traduce in un arricchimento dei valori morali dell'individuo in virtù di ciò la persona ha profondo senso e quindi il rispetto sostanzialmente intimamente cristiani della dignità altrui della dignità altrui sente profondamente i legami che uniscono alla comunità a cui appartiene a vivissima la coscienza di un dovere sociale essa in sostanza possiede un principio interiore spirituale che crea e sostiene la sua vocazione indirizzandola verso un fine superiore l'individuo riposa sugli elementi materiali e dalla materia individualizzato e limitato esso quindi si muove secondo la risultante di un puro urto di forze in un piano di cui le leggi spirituali non piegano la loro invisibile potenza da questo la concezione che Olivetti elabora di persona individuo secondo lei sono puramente frutto della sua esperienza come uomo o sono influenzati dai grandi letterati e filosofi della sua epoca? assolutamente influenzati la caratteristica che ha Adriano Olivetti è che è un intellettuale nel senso che è un intellettuale del novecento quindi che ha due cose una passione politica sfrenata a un vero demone della politica che lo abita e dall'altra parte ha un'attitudine fortissima alla riflessione e alla lettura e al cercare di prendere dei concetti dai libri che gli interessano e che lo colpiscono e provare a trasformarli in qualcosa di vivo e di concreto il passaggio che tu hai letto riguarda il tema del concetto della persona Adriano Olivetti è influenzato tantissimo da una corrente filosofica del novecento che si chiama Personalismo che ha Maritaine e Meunier due filosofi francesi classici, importanti i loro principali autori e lui è influenzato tantissimo dalla psicanalisi tanto che sarà il primo a volere portare in Italia la traduzione di Jung e di Freud è influenzato tantissimo da una dimensione dell'interiorità che lo spinge a confrontarsi con il problema dell'individuo e del destino in una maniera che formalmente è molto vicina anche alla chiesa cattolica italiana perché comunque lui ad esempio nel 48 si converte e si battezza ma nei fatti è una roba molto juiz, molto ebraica come cosa e questo messianesimo che lui ha è un messianesimo che ha sempre come obiettivo la trasformazione dei fini ultimi delle cose per cui la persona è un soggetto in evoluzione ma lo è non soltanto in senso astratto lo è in senso concreto per cui anche come lui organizza la sua vita di impresa perché dobbiamo sempre pensare a una cosa che Adriano Olivetti è stato un grande intellettuale è stato un politico, un uomo di cultura ma noi siamo oggi qui perché lui ha fatto un'azienda che aveva a un certo punto 100.000 dipendenti cioè era un'azienda enorme, importantissima, di grande successo e quindi secondo me noi dobbiamo provare a connettere i suoi riferimenti astratti e culturali rispetto a come poi lui li ha portati dentro alle cose, alla concretezza delle cose e quindi questo passaggio che è molto spirituale è molto alto, molto... poi voi dovete pensare che si concretava nel fatto che lui ha costruito un modello in cui molto concretamente la persona che aveva la quinta elementare doveva diventare doveva dentro all'azienda prendere il diploma di terza media doveva molto concretamente chi aveva un diploma di terza media doveva per la fabbrica la fabbrica lo aiutava a diventare diplomato e chi era diplomato aveva due possibilità o cercare di laurearsi oppure avere una carriera sua dentro a un meccanismo dove c'era molto, molto poco pregiudizio e c'era molta fiducia nell'altro essere umano nel senso che, ad esempio la cosa che a me è sempre colpito e il racconto che mi ha fatto uno che si chiama El Serino Piol che non so se l'avete mai sentito parlare comunque è quello che ha finanziato ha inventato il venture capital in Italia negli anni 90 e avete presente Yux il sito di moda online di B2C Yux Pret-a-Portè si chiama quella roba lì l'ha finanziata El Serino Piol all'inizio solo per darvi un riferimento di oggi questo El Serino Piol è stato un grande dirigente dell'Olivetti e lui mi ha sempre raccontato che lui aveva fatto il perito meccanico erano morti i suoi genitori lui era andato a fare l'autista a guidare i pullman è riuscito a entrare all'Olivetti ed è diventato la testa d'uovo dell'Olivetti sull'elettronica e sull'informatica diventando dirigente prima dei 30 anni e lui diceva sempre che l'unica società italiana dove senza essere laureato prima dei 30 anni si poteva diventare dirigente era l'Olivetti di Adriano Olivetti e a lui quello è capitato per dire che è importante secondo me per me cercare di trasmettervi che questa roba astratta che Adriano Olivetti dice e teorizza poi è successa nella vita delle persone è successa nella vita delle persone buongiorno per formulare la mia domanda vorrei prima collegarmi al discorso che lei ha fatto prima sulla macchina da scrivere di Olivetti che viene esposta nel museo di tutto il mondo che è utilizzata ed è riconosciuta come un grandissimo prodotto dell'ingegneria italiana ecco conosciamo sicuramente la lettera 22 che è una delle macchine da scrivere più conosciute di tutti i tempi emblema del boom economico che l'Italia visse nel dopoguerra ora io le chiedo a cosa si può attribuire il successo internazionale riscosso dal famoso prodotto Olivetti e anche quali furono le innovazioni che premisero alla lettera 22 di imporsi su un mercato come quello delle macchine da scrivere che negli anni 60 era saturo di prodotti simili perché perché ci fu proprio un cambio di visione ecco cioè le macchine per scrivere erano sempre state considerate dei prodotti che dovevano funzionare non dei prodotti belli con Adriano Olivetti fin dagli anni 30 si inizia a pensare che il prodotto industriale deve essere bello quanto ben funzionante ed è la ragione per cui alla fine si crea un modello industriale organizzativo in cui i tecnici e gli architetti che in quel momento diventano architetti di piccoli prodotti cioè designer industriali lavorano insieme come cosa e questo modello spacca il mercato perché nessuno l'ha mai fatto prima questo modello spacca il mercato e crea una una trasforma i prodotti in prodotti che gli americani usano un'espressione sexy cioè dotati di una attrattiva di una di una di una capacità di riuscire ad attirare l'attenzione e a sovvertire anche l'idea stessa dei prodotti straordinaria se voi pensate che negli anni 50 il MoMA di New York fa una una mostra permanente sui prodotti olivetti negli anni 50 se voi pensate che ancora 15 anni dopo Steve Jobs impazzirà per i prodotti olivetti se voi pensate che a un certo punto la olivetti riesce a disseminare il tema della bellezza facendolo anche uscire dalla dalla fabbrica perché non solo fa i prodotti ma fa anche le case dei dipendenti fatte che oggi sono negli album nei libri di storia dell'architettura del novecento fa affida grandi architetti i luoghi di lavoro le fabbriche e gli uffici e a un certo punto addirittura fa traccimare ancora al di fuori del perimetro anche di questo tipo del mercato della produzione organizzando le mostre fra le più belle al mondo per la prima volta fatte da un'impresa che parte da un'idea e organizza delle mostre che poi porta in tutto il mondo per tutti gli anni 60 70 80 ecco voi avete l'idea di come quella cosa lì di come la lettera 22 sia un seme che poi germoglia e esplode verso tantissimi altri punti di vista ed è incredibile come una società comunque piccola perché voglio dire la Olivetti era più piccola della Fiat la Olivetti era più piccola della Pirelli la Olivetti era più piccola di tante altre aziende abbia avuto una dimensione e un'influenza culturale perché l'industria e l'economia sono cultura e sono politica enorme proprio ecco enorme partendo da quell'idea da quel concetto leggiamo dal testo il primo amore è Paola Levi Paola è più forte di Adriano Paola Giovanni Moglie è un concentrato trattenuto al limite della nevrosi di energia è destinato a sbocciare in una delle donne più affascinanti dell'Europa del secolo breve da questo deduciamo che Paola Levi è una donna che balla con gli altri balla da sola e non ascolta nessuno e proprio per questo catturerà l'interesse di Adriano Livetti che in poco tempo se ne innamorerà Paola è una donna all'avanguardia atipica rispetto all'idea comune che relega il genere femminile alla sola custodia del popolare domestico Paola non ha paura di nulla frequenta liberamente gli ambienti degli artisti torinesi e sogna Parigi Londra Berlino e ancora Vienna e Firenze la fredda evrea al contrario le diventa ben presto così stretta da convincere il marito a trasferirsi nella grande dinamica Milano questo trasferimento sarà determinante per il futuro dell'Olivetti perché a Milano Adriano entrerà in contatto con un ambiente intellettuale stimolante grazie al quale potrà arricchire la sua cultura in ambito urbanistico architettonico e delle scienze sociali l'influenza e il contributo seppur indiretti di Paola Levi alla fabbrica Olivetti sono di fondamentale rilevanza quale considerazione aveva Adriano a tal proposito del rapporto tra la sua fabbrica e la moglie continuava a riconoscere l'ombra e l'eco del suo primo amore tra le vetrate della fabbrica di Ivrea anche dopo il divorzio e il secondo matrimonio con la giovane Grazia Galletti sì questo proprio è uno dei passaggi fondamentali del libro e secondo me della storia dell'Olivetti nel senso che Adriano Olivetti è diventa Adriano Olivetti secondo me grazie a Paola Levi Paola Levi è la sorella di Natalia Ginzburg come giustamente ricordavi tu era una donna super emancipata era una donna che durante la guerra girava per l'Europa in macchina guidando da sola e è una donna che ribalta le convenzioni Adriano è così Adriano diventa Adriano Olivetti grazie agli amici intellettuali agli stimoli che Paola Levi trasfonde in lui Adriano Olivetti aveva una componente di provincialismo come tutte le persone che stavano dentro a una bambaggia borghese avanzata ma comunque di provincia che viene liberata grazie alla famiglia di Paola Levi che ricordiamolo appunto sono suo padre Levi era Levi scienziato grande scienziato e la sorella della Paola Levi era la Natalia Ginzburg l'autrice di Lessico a Familiare non so se l'avete mai letto se l'avete fatto se l'avete fatto leggetelo perché è un libro bellissimo meraviglioso ecco e Paola Levi diventa fondamentale per lui perché ad esempio apro una piccola parentesi culturale sul nazismo il nazismo odia gli ebrei una delle grandi espressioni culturali del nazismo chiedo scusa dell'ebraismo tedesco è il Bauhaus il Bauhaus è un fenomeno culturale importantissimo del novecento uno dei cinque di una delle cinque o sei cose che determinano veramente il novecento come il novecento che è basato sull'idea che l'arte debba essere ibridata con quelli che oggi verrebbero definite il design virtuali le artigianate i materiali eccetera quindi sono tutti dei geni questi questi signori del Bauhaus Hitler decide che il Bauhaus va raso al suolo e allora tutti i designer del Bauhaus e gli architetti vanno in tre posti vanno nella Palestina che dopo il secondo dopoguerra verrà chiamato stato di Israele vanno negli Stati Uniti a Los Angeles e a New York e vengono in Italia a Ivrea a Milano grazie a Paola Levi quindi il design dell'Olivetti che è un design già negli anni trenta molto autoironico profondamente antitotalitario molto democratico divertente già negli anni trenta e diventa il design dell'Olivetti grazie al Bauhaus e quindi Paola Levi è fondamentale anche per la fabbrica è fondamentale per l'azienda ma è fondamentale anche nella vita di Adriano Olivetti l'amore che ha Adriano Olivetti per sua moglie è tale che lui accetta quello che quasi nessun uomo anzi nessun uomo avrebbe accettato negli anni trenta cioè accetta che Paola Levi lo lasci e si metta a vivere con Carlo Levi che è il pittore e scrittore di Cristo ci è fermato a deboli sono omonimi soltanto non sono imparentati e la Paola ha un ha ha dei figli ha un figlio da Paola da Carlo Levi e Adriano Olivetti per tutta la vita tratterà il figlio di Carlo Levi esattamente come un suo figlio avendo un amore enorme verso la moglie e anche molto tenero per cui ad esempio io ho ricostruito anche lo scambio di lettere tra la Paola Levi che ormai già sta con Carlo Levi e Adriano in cui Adriano quando la moglie è scoppiata la guerra deve rientrare dalla Francia e non è che torna a Ivrea o a Milano dove loro avevano casa ma rientra a Firenze dove l'aspetta Carlo Levi quindi il contendente l'altro ecco Adriano comunque fa di tutto per facilitare attraverso la fabbrica attraverso la consociata francese anche elementi minimi di vita come il trasporto dei mobili che secondo me è una cosa molto tenera e assolutamente innovativa e modernissima perché c'è il caso di un uomo che è vittima tra virgolette cioè delle scelte della donna e in quel caso è totalmente vicino alla donna e fa di tutto per continuare ad amarla e volerle bene nonostante quello che è successo negli anni 30 negli anni 40 questa cosa è una roba molto fuori dagli schemi ecco quindi sì secondo me Paola Levi è fondamentale per come Adriano Olivetti diventa Adriano Olivetti grazie a Paola Levi secondo me dal suo testo se il mondo che nasce vuole evitare nuove catastrofi e volgere verso mete superiore occorre creare una società in cui la persona abbia la possibilità immediata di esplicare la propria umanità e spiritualità è solo in una comunità né troppo grande né troppo piccola che una concreta solidarietà può esplicarsi la società individualista egoista che riteneva che il progresso economico e sociale fosse l'esclusiva conseguenza di spaventosi conflitti di interessi e di una continua sopraffazione dei forti sui deboli la società polverizzata in atomi elementari ospietatamente accentrata nello stato totalitario è distrutta sulle sue rovine nasce una società umana solidarista personalista quella di una comunità concreta dunque se si fosse realizzato il progetto olivettiano di creare una nuova comunità concreta con al centro la persona e le cui parole d'ordine fossero umanità e solidarietà crede che saremo ugualmente arrivati alla situazione in cui è l'Italia oggi saremo giunti a una società che sempre più sembra assumere tratti che ricordano quello stato controllato e dispotico tipico del periodo fascista ma io credo che la comunità concreta con al centro delle persone con al centro la persona con la P maiuscola sia il nucleo del progetto culturale olivettiano credo anche che poi nella storia questa cosa si sia realizzata grazie appunto all'esperienza di fabbrica all'esperienza dell'impresa all'esperienza di ciò che la cultura olivettiana ha rappresentato nel mondo nel mondo contemporaneo quello che quello che credo è che proprio perché queste cose sono state enunciate dal punto di vista teorico e in parte si sono realizzate io credo che proprio per questa cosa alla fine questo binomio di ciò che è stato enunciato di ciò che si è realizzato rappresenti una fortissima testimonianza rispetto a quello che è oggi la nostra società che per mille ragioni ha caratteri come voi dite che tendono al dispotismo per mille ragioni ha caratteri che tendono a un dissolvimento del concetto dell'umano per mille ragioni ha porta con sé un forte indebolimento del senso di umanità quello che io trovo sempre interessante è pensare che queste cose seppur in un momento storico circoscritto e con anche tanti fallimenti però si sono realizzate e se si sono realizzate una volta vuol dire che stanno dentro la storia ma se stanno dentro la storia secondo me ci interrogano con urgenza su quello che noi siamo e che possiamo essere oggi e domani noi con gli altri la comunità progettata da Adriano Olivetti vive nel binomio con la fabbrica che a sua volta rappresenta l'avverente laiatura nelle relazioni e nello spazio culturale nella capacità di creare ricchezze nella predisposizione a definire percorsi di ascesa cognitiva e reddituale per gli uomini e le donne che lavorano nell'impresa e abitano nel territorio circostante a essa per Adriano quindi l'idea di comunità è strettamente legata alla fabbrica e soprattutto al lavoro in fabbrica già il padre Camilla aveva iniziato la sua attività con l'idea che chi è nella parte bassa della gerarchia della società grazie al lavoro e al sapere acquisito con lo studio e l'applicazione la fatica e la disciplina può emanciparsi dalla sua condizione il lavoro dunque ha un profondo effetto sociale e contribuisce alla costruzione della comunità ma se le mani e le menti dei lavoratori venissero sostituiti da bracci meccanici o dispositivi programmati come ormai sta accadendo negli ultimi anni cosa rimarrebbe della nostra società già frammentata e danneggiata? Allora Adriano Livetti era profondamente antiluddista cioè nel senso che credeva nella tecnologia anzi riteneva che la tecnologia emancipasse gli esseri umani ecco e quindi assolutamente Adriano Livetti se posso fare l'interprete di una personalità storica assolutamente era a favore della tecnologia più avanzata la tecnologia per lui aveva un senso di neutralità ma era l'utilizzo che si faceva della tecnologia che determinava poi le sorti degli esseri umani e quindi Adriano Livetti di fronte anche a una società frammentata come quella di oggi io credo riterrebbe come riteneva negli anni 50 quando spinse l'elettronica rispetto alla meccanica e riteneva che la tecnologia fosse fondamentale per riparare i danni e non per crearne altri per concludere le facciamo l'ultima domanda che è una domanda caratteristica diciamo del nostro progetto perché il nostro progetto Galeotto fu il libro appunto si ispira al quinto canto dell'inferno di Dante in cui Paolo e Francesca ricordano il momento che ha segnato l'inizio della loro storia d'amore la passione tra i due personaggi nasce durante la lettura di un libro quello che racconta delle vicende di Lancellotta e Ginevra e del loro amore adultero mediato dal siniscalco della regina Galeotto e il Galeotto di Paolo e Francesca è il romanzo stesso che ha reso possibile la loro relazione quella tra un lettore appassionato e le parole è una storia d'amore a tutti gli effetti perciò siamo soliti domandare ai nostri ospiti del libro che gli ha sedotti e che gli ha avvicinati all'amore per la scrittura a questo proposito qual è il suo libro Galeotto? Ah proprio una domanda intima ecco no beh io devo dire che io credo che parlare delle proprie letture sia veramente una roba complicata perché però devo dire che per me cioè il 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 primo io mi ricordo il primo libro che veramente mi ha colpito e sedotto a proposito di Galeotto e le memorie di Adriano della Jusenar e poi come raccontavo ieri sera ai vostri professori io sono un lettore atipico nel senso che sono un lettore ossessivo nel senso che tendo a rileggere sempre le stesse cose e da questo punto di vista veramente è uno dei libri che che ho letto e rileggo con più piacere ecco lo faccio perché veramente dentro c'è qualunque cosa possa interessare anche la modernità e anche e anche i ragazzi ecco voi nel senso che c'è il tema della classicità il tema della modernità c'è il tema della guerra c'è il tema della pace il tema della morte il tema delle comunità io ho dei figli che hanno la vostra età e parliamo spesso di 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 quanto sia importante il tema del il tema dell'amore lì c'è tantissimo amore ecco e quindi è veramente quello è se mi chiedi così a bruciapelo io mi viene da buttare lì così ecco ce ne sono tantissimi ma quello è il primo che mi viene in mente ecco con questo abbiamo concluso l'incontro ringraziamo il pubblico per essere stato con noi ma soprattutto ringraziamo Paolo Bricco per aver dialogato con noi grazie mille grazie a voi no sono io che sono io che vi ringrazio sono onorato ecco nel senso veramente no veramente davvero vi ringrazio tantissimo ecco e ricordo per chi si vuole far firmare la copia del libro facciamo il firma copie qui al tavolo ma com'è andata eh com'è andata secondo voi dai dai grazie mille vai